Scenari macabri e inquietanti. Un gruppo di medici belgi ha stabilito che i pazienti uccisi con l'eutanasia sono donatori ideali di organi di Alfredo De Matteo. La realtà sta ormai superando la fantasia e gli scenari più macabri e inquietanti non sono il frutto dell'immaginazione perversa degli ideatori di film horror ma veri accadimenti. Uno studio condotto da un gruppo di medici belgi ha stabilito che i pazienti deceduti per eutanasia sono donatori ideali di organi soprattutto di polmoni. Sulla base di quanto riportato nel rapporto date alla mano tre pazienti su quattro di coloro a cui sono stati trapiantati i polmoni provenienti da donatori eutanasizzati hanno avuto un eccellente e rapido decorso post trapianto. Tutti i pazienti a cui sono stati prelevati gli organi avevano dato il loro consenso all'eutanasia pur non trovandosi in stato terminale. Uno soffriva di un insostenibile disordine mentale, gli altri due di una debilitante malattia benigna. Il giorno stabilito sono stati condotti nella sala adiacente quella dei trapianti e ivi terminati con particolari accorgimenti. È stato somministrato loro un farmaco anticoagulante prima del cocktail mortale di medicinali, dichiarati morti sulla base di criteri stabiliti dalla legge belga, intubati e posizionati sul tavolo operatorio, pronti a essere depredati dei preziosi organi. Secondo un rapporto stilato dalla Canadian Medical Association, il 20% degli infermieri intervistati ha partecipato a interventi eutanasici e circa la metà di loro ha ammesso di avere partecipato a tali operazioni senza il consenso esplicito del paziente. Prelevare organi da pazienti non consenzienti è solo questione di tempo, afferma il dottor Sanders, dato che già ora la metà dei casi di eutanasia in Belgio avvengono senza la volontà espressa del malato. L'evoluzione del male e l'utilizzo di nuovi strumenti di morte non è casuale, ma la logica conseguenza di norme giuridiche e di concezioni filosofiche dell'uomo e del suo essere nel mondo, che sono il frutto di una società che nega l'esistenza di un essere superiore e conseguentemente di uno statuto giuridico, il diritto naturale, che precede la fondazione stessa dello Stato. Di conseguenza, in assenza di un ordine universale riconosciuto e naturale, pensare la vita e legiferare secondo un falso ordine basato sulla sostanziale inutilità dell'esistenza umana, spogliata di qualsiasi prospettiva sopranaturale. Se l'uomo è destinato a scomparire nell'unla, da dove è venuto? Tutte le carte si giocano nel limitato lasso di tempo della sua esistenza terrena, cosicché la sofferenza e la malattia invalidante diventano degli insopportabili fardelli, che è perfettamente inutile portare avanti, anche perché costituiscono degli ostacoli per chi invece può ancora avere la chance di godersi la vita. La legge del più forte dunque diventa il vero e unico criterio di riferimento di una umanità depressa e spiritualmente annichilita. Il business dei trapianti d'organo, ormai acriticamente accettato da tutti come il livello più alto di altruismo e gratuità, donazione di sé raggiunta dall'uomo della modernità, si inquadra perfettamente nell'epoca in cui viviamo. La morte di colui che si auto elimina o viene eliminato acquisisce senso e dignità nel momento in cui è utile a qualcun altro. La mancanza di senso infatti colpisce l'uomo in tutte le fasi della sua esistenza, tanto che ancora più terrificante del vivere senza alcuna prospettiva e senza poter lasciare alcuna traccia è il morire. Non sorprende dunque la facilità con cui le persone danno il loro assenso a donare gli organi vitali e non sorprende nemmeno che la materia prima dei trapianti provenga in misura sempre maggiore dalle persone eutanasizzate. Purtroppo non sorprende neppure il fatto che sempre con maggiore frequenza si ricorrerà all'eutanasia senza il consenso del paziente o addirittura contro di esso. La strada del male è un abisso senza fondo.